Immagina un luogo dove non esistono confini, dove milioni di animali vivono liberi in un immenso territorio selvaggio, un paese dove lo stile di vita segue tradizioni ancestrali. Immagina una terra dal cielo blu, abitata da genti fiere e cordiali. Immagina un luogo dove il vento spazza la steppa, creando forme e disegni perfetti. Questa è la Mongolia. A volte i sogni sono realtà, in attesa di coraggio. Ora, smetti di sognare. Vieni a vivere l'avventura della Mongolia Motorbike Marathon. Comune di nove lunatino. Grazie.